Vincenzo Ivan Alletto, 27enne Nissenu, è stato arrestato dalla squadra mobile. L'uomo, gravato da numerosi precedenti penali, deve scontare la pena di 5 anni, 4 mesi e 20 giorni poiché è condannato a 9 anni di reclusione al pagamento di 2.000 euro di multa, più pene e accessorie, per reati commessi dal 2008 al 2014 concernenti gli stupefacenti, estorsione e lesioni personali. Dalla pena sono stati detratti 3 anni, 7 mesi e 10 giorni per periodi di detenzione già subita in precedenza. Inoltre l'ufficio di sorveglianza di Caltanissetta ha concesso 315 giorni di liberazione anticipata che saranno detratti dalla pena da scontare.